Secondo una fonte vicina al Sussex, il principe Ferry e Meghan Markle non si muoveranno dalla loro casa in California senza combattere. Il principe Ferry e Meghan Markle sono pronti a sfidare qualsiasi tentativo di Donald Trump di costringerli ad andarsene dagli Stati Uniti se dovesse diventare presidente, e secondo alcune indiscrezioni sarebbero pronti a combattere per restare in California. Nonostante le potenziali minacce di deportazione da parte di Trump, il duca e la duchessa del Sussex non hanno alcuna intenzione di abbandonare la loro casa americana, ha rivelato una fonte reale, con la coppia che ha causato un grosso grattacapo al presidente eletto prima ancora che entrasse in carica. Una fonte ha dichiarato di recente All Express. Non ci sono piani per i Sussex di trasferirsi dagli Stati Uniti. Un'altra fonte ha aggiunto che il principe Ferry e Meghan si sentono a casa in California e non se ne andranno senza combattere, sottolineando la determinazione della coppia a mantenere la residenza negli Stati Uniti. Stabilitisi nel quartiere californiano di Montecito dopo aver lasciato gli incarichi reali nel 2020, i Sussex considerano l'America la loro casa. L'istruzione dei loro figli Archie e Lilibet è stata un fattore chiave nella loro decisione di rimanere. Meghan è cittadina statunitense e Archie ha appena iniziato una nuova scuola. Quindi lasciare il posto che chiamano casa non è nemmeno un'opzione. Ha rivelato un'altra fonte.